Il 2015 è iniziato con il botto per FCA, la casa automobilistica nata dalla fusione tra Fiat e Chrysler con un aumento del 5,8% delle immatricolazioni in Europa e dell'11,3% in Italia nel mese di gennaio quando sono stati consegnati 37.191 nuovi modelli. Il miglior risultato dal marzo del 2010 ed un bel segnale di ripresa del mercato. In parallelo cresce anche il mercato dell'usato e Fiat intende cavalcare l'onda con iniziative speciali a favore dei clienti per le auto a chilometri zero o con pochi mesi di vita. In quest'ambito nasce la collaborazione tra la Mirafiori Outlet della casa automobilistica e la concessionaria di Frosinone Jolly Auto che dal 1 all'8 marzo darà vita al mercatino dell'usato. Il mercatino dell'usato è un evento che abbiamo deciso di organizzare in collaborazione con Fiat e con Mirafiori Outlet per la prima volta qui a Frosinone, qui al Gruppo Go. Abbiamo deciso di esporre per una settimana dal 1 all'8 marzo circa 400 macchine che sono divise per modello, per alimentazione, quindi andiamo sia dalle motorizzazioni diesel al benzina sia a quelle ecologiche, quindi GPL e metano. Quali saranno i marchi presenti? Tra Fiat, Alfa, Lancia, abbiamo anche le Abarth, abbiamo anche una vasta gamma di furgoni, quindi veicoli commerciali usati e in più abbiamo anche uno stock di Toyota a chilometri zero, infatti noi del Gruppo Gola Iacovo siamo anche concessionari appunto della Toyota. Ed ancora, c'è la possibilità di particolari vantaggi dell'acquisto? Abbiamo pensato ad un finanziamento che ha tutta una serie di vantaggi, innanzitutto c'è l'anticipo zero, quindi il cliente può finanziare l'intero importo della macchina senza dare alcuna somma a titolo di anticipo. Poi nel finanziamento può mettere una serie di servizi molto vantaggiosi che sono l'estensione di garanzia per avere la tranquillità di una macchina garantita per tutta la sua vita contrattuale e la polizia incendi e furto. Poi sono previste una serie di iniziative che andremo poi a lanciare nel giorno del mercatino che stiamo ancora studiando. Grazie a tutti.